Musica Dal 30 maggio al 10 giugno, 51 alunni dell'Istituto Tecnico del Settore Economico Capriotti di San Benedetto del Tronto hanno svolto attività di stage in 16 filiali della Banca Picena Truentina, sotto il tutorato di un docente nominato dallo stesso istituto scolastico. Alternanza scuola-lavoro, questo è il titolo del progetto che si è proposto di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili nella vita e nel mercato del lavoro. Il progetto è sottoscritto dalla dirigente Elisa Vita. Questa è stata sicuramente un'esperienza da ripetere, tant'è vero che questo è il secondo anno consecutivo che noi ci rivolgiamo alla Banca Picena Truentina perché già fin dall'anno precedente abbiamo avuto un'ottima accoglienza e ottimi risultati. Il nostro istituto soprattutto vuole tradurre nella pratica ciò che i ragazzi imparano quotidianamente nella scuola. Quindi far sì che i nostri studenti capiscano che ciò che tutti i giorni studiano viene poi realmente e operativamente svolto in un'esperienza lavorativa. Grazie. Grazie a tutti.